La terza edizione del Borgo del Merletto arricchita dalle opere di artisti molisani e abruzzesi, un connubio tra tradizione e contemporaneità che farà vivere a Isernia una nuova esperienza immersiva per i visitatori. È partita ieri nel centro storico la manifestazione che trasformerà i vicoli del capoluogo Pentro in un percorso esperenziale di ben 800 metri tra esposizioni, mostre e laboratori aventi come protagonista il pregiato tombolo isernino. Un connubio di arte applicata e di arte materiale del Merletto, una mostra assolutamente da non poter perdere perché ci sarà la possibilità di parlare sia con le merlettaie e con la loro presidente e soprattutto con gli artisti che oggi sono giunti nella nostra città di Isernia anche da Pescara e Termoli oltre due artisti del capoluogo Pentro. La novità di quest'anno è la partecipazione dei artisti quotati che esporranno le loro opere insieme ai merletti. Una mostra contemporanea completamente diversa perché si sviluppa in uno degli scenari più importanti della città di Isernia un momento storico tradizionale che racconta quella che è l'arte millenaria in contrapposizione con la contemporaneità. Troveremo degli artisti provenienti da vari luoghi, Teramo, Pescara, Isernia e anche Roma che dialogano tra loro attraverso un linguaggio visivo fondamentale all'occhio dell'essere umano messo in contrapposizione con l'arte manuale. Possiamo dire che sono dei veri artisti ma artisti anche artigiani.